Tipo, vivo così. No, no, devi piangere seriamente, come ti hanno insegnato a scuola, non so, ho fatto una scuola di doppi anni. Beh, io, come anche nella realtà. E tipo che è morta tua madre, ti è morto il cane. No, è un cartone, è esasperato il pianto, però è una cosa più sentita, di diaframma, più caricato. Ok, provo così. Mi viene veramente da piangere. Questa è bella. Ok, questa con l'acuto. Sì, la devi fare così. Ok.